Cinque ospedali milanesi sono tra i migliori al mondo e l'ospedale Humanitas è il primo tra quelli italiani. A dirlo, l'indagine del World's Best Smart Hospital 2021, la classifica stilata da Newsweek con il supporto di Statista, che elenca i 250 migliori ospedali a livello mondiale, è con particolare orgoglio e soddisfazione che rivolga un plauso all'Istituto Clinico Humanitas, ha commentato la vicepresidente e assessora al welfare della regione Lombardia Letizia Moratti, che si è guadagnato il primo posto nella graduatoria italiana e il 34esimo rispetto a tutto il mondo. Tra gli ospedali milanesi che figurano nella classifica, al 58esimo posto rientra l'ospedale milanese San Raffaele Gruppo Sandonato, al 218esimo il grande ospedale metropolitana Oniguarda, al 222esimo il centro cardiologico Monzino e subito sotto al 223esimo l'Istituto Europeo di Oncologia IEO, si tratta di un risultato straordinario, conclude Moratti, che conferma l'eccellenza della sanità lombarda, sia pubblica che privata, a livello nazionale ed internazionale. Mi auguro che con l'istituzione delle aziende ospedaliere la sanità pubblica lombarda possa incrementare ulteriormente la propria presenza a questi livelli.